Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Tra il bivio 1 variante di valico Baccheraia e Calenzano, prudenza per un mezzo fermo in carreggiata. Mezzo fermo anche tra Ronco, Bilaccio e Aglio in direzione Bologna. Nella stazione di servizio Magra in A12 in direzione Genova si segnala GPL non disponibile. Sul raccordo autostradale Sina-Firenze possibili disagi per scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allaccio con la A1 Firenze in Pluneta. Nuovi lavori in settimana in via d'Annunzio e in via del Buon del Monti a Firenze. Nuovi allacce alla rete idrica in via Pian dei Giullari, via di Mezzo e in via dei Canacci. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!